Si avvicina l'inverno e tornano le regole per la sicurezza stradale. Domenica in quasi tutta Italia scatteranno le ordinanze di obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo laddove previsto. Bisognerà munirsi dunque del corretto equipaggiamento per il proprio veicolo a beneficio della sicurezza al volante quando le condizioni della strada diventano insidiose e il livello di aderenza delle gomme al fondo stradale è inferiore. La direttiva del ministro delle infrastrutture e dei trasporti si applica fuori dai centri abitati e prevede un periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. È consentita un'estensione temporale di questo periodo per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote alte. Le ordinanze si applicano ai veicoli a motore esclusi ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada. Sul sito pneumaticisottocontrollo.it sarà possibile scaricare i provvedimenti vigenti sul territorio italiano.